Bentornati, ben ritrovati da Andrea, siamo qua in gruppo Ghinzani Spoticar Bergamo, sono qua insieme alla mia collega Lara. Ciao a tutti. Ben ritrovati, come dicevo, abbiamo tantissime novità, come sempre, una nuova formula di finanziamento ideata e idonea a donne esigenze creata appositamente per voi. Quindi state lì, ascoltateci bene perché questa formula guida sereno con Spoticar è assolutamente da non perdere perché ha delle caratteristiche uniche nel suo genere. Siamo carichi di novità questo mese in salone, sono arrivate le nuove chilometro zero, le disponibilità delle nuove chilometro zero del gruppo Stellanti. Se partiamo subito con questa magnifica Peugeot 3008 GT Pack. Di questa vettura, nello stesso allestimento, abbiamo una decina di auto disponibili in pronta consegna, tutte in motorizzazione 1.5-130 CV, con cambio automatico IAT8. La GT Pack chiaramente è l'allestimento più esclusivo, come potete vedere, della vettura. Parliamo di un'auto con tetto panoramico, interno dedicato al cantare pelle. Telecamera anteriore e posteriore, monitor chiaramente touch, con la possibilità di connettere i sistemi Apple CarPlay o Android Auto. Sistemi di sicurezza attiva, abbiamo il cambio appunto automatico con le levettine del cambio al volante. È una macchina veramente magnifica. Tutte le immagini di questa splendida vettura le potete visionare e ritrovare sul nostro sito gruppoghinzani.it. Nella sezione Spoticar trovate tutte le immagini di quest'auto e di tutte le disponibilità che abbiamo al momento in salone. È un'auto che proponiamo con la formula guida sereno, guida senza pensieri del gruppo Ginzani, gruppo Spoticar, che ti permette con un anticipo minimo, in questo caso solamente 10.000 euro, che potrebbe essere anche il vostro usato da permutare, di viaggiare con questa splendida auto, con sole 36 canoni, da 396 euro. 396 euro che includono già furto, incendio, atti vandalici, calamità naturali e cristalli. E alla fine di questi 36 canoni decidere se restituire la vettura, riscattarla o addirittura rifinanziarla in comoderate. Continuiamo questa ricca carellata di disponibilità per quanto riguarda le vetture chilometro zero di Stellantis e continuiamo il percorso sui nostri SUV. Parliamo di Citroen C5 Aircross, quindi siamo sulla gamma Citroen. Citroen C5 Aircross che è il SUV, un bellissimo SUV di casa Citroen. Parliamo di un'auto che monta una motorizzazione anche lei, 1.5-130 cavalli diesel, sempre cambio automatico, sempre nell'allestimento più esclusivo, perché a noi piacciono le cose belle e quindi scegliamo sempre gli allestimenti più rifiniti e più completi. Allestimento Shine, parlavamo quindi di un'auto che ha sempre di serie telecamere, cerchi maggiorati, clima automatico, monitor touch, navigatore, cambio automatico, cruise control adattivo, insomma bellissima, anche lei sempre visionabile sul nostro sito, anche lei acquistabile con la nostra formula Guida Senza Pensieri e pensate potete circolare solamente con 36 canoni da 394 euro al mese, solamente, ripeto bene, 394 euro al mese. L'anticipo per quest'auto? 5.000 euro. Passiamo a questa esclusiva Opel Mocca, avete capito bene? Sì, le abbiamo disponibili in pronta consegna qua da noi, nella motorizzazione benzina, tutte con cambio automatico e motore da 130 cavalli. L'allestimento disponibile è l'allestimento Elegance in vari colori, nero, grigio-artense, bianco-perla. Queste le disponibilità in questo momento sono tutte vetture, come ripeto, in pronta consegna qua da noi, a chilometro zero. È una vettura magnifica, cosa ne pensi tu, Lara, di quest'auto? Ti piace? Sì, nera. Qual è il tuo colore preferito? Anche bianca. Bianca. Sì, bianca preferito. Dopo nelle immagini credo che le faremo vedere bianche. Sì, ok. 1.230 cavalli, sempre con la nostra esclusiva Formula Guida Senza Pensieri, qui un anticipo di 5.000 euro, o ripeto, il vostro usato da permutare, e un canone da 299 euro al mese per 36 rate. 299 euro al mese, lo ripeto, i 299 euro al mese comprendono già furto, incendio, atti vandalici, calamita naturali e cristalli. Possibilità, poi, a vostra scelta di aggiungere anche il piano di manutenzione, piuttosto che anche il cambio gomme. Lara, hai visto quanto è spaziosa e quanto è bella questa Ford Tornio Connect appena arrivato? È un magnifico, ha uno spazio immenso per andare magari a fare un bel giro in montagna, piuttosto che una bella biciclettata come piace tanto a te, no? Lo spazio non manca assolutamente. E pensa che potresti guidarlo solamente con, e acquistarla, con 36 rate da 368 euro al mese. Quasi sembra impossibile, e invece qua da noi in Spoticar, la puoi avere, la puoi guidare con solamente, ripeto, 36 canoni da 368 euro. Quanto anticipo? 5000 euro. 5000 euro, un anticipo quindi minimo, che può essere sempre il vostro usato da ritirare, da permutare, e tu puoi girare con questa magnifica auto. Furto, incendio, atti vandalici, calamita naturali e cristalli, li troviamo già all'interno della rata. Direi che è magnifico, no? Approfittatene subito perché ne abbiamo una serie limitata di queste vetture, abbiamo ancora 3-4 auto disponibili, qui da noi in pronta consegna, qui da noi a Bergamo, ve lo ricordo, in Spoticar, Bergamo. Volete visionarle? Andate sul nostro sito, gruppochinzani.it, lo continuerò a ripetere per tutta la puntata, perché lì potete trovare in dettaglio l'auto, con tutte le caratteristiche, visionarla anche internamente con le varie dettagli fotografici. Eccola appena arrivata, Lara, è la nostra Toyota Ego X, l'abbiamo aspettata e fortuna vuole, la ritroviamo, la troviamo qua da noi, proprio giusto in tempo per fare, in anteprima, in esclusiva per i nostri telespettatori, le prime riprese, i primi annunci. Parliamo della Toyota Ego X, il piccolo crossover di casa Toyota, 1072 cavalli automatica, chilometro zero, anche lei guidabile con la nostra formula guida senza pensieri, un anticipo di Dilo Tulara, quanto dobbiamo anticipare? Solamente 1000 euro, sì, avete capito bene, 1000 euro, e il canone? Da 244,99 al mese. Solamente 244 euro, per girare con questa magnifica Toyota Ego X, disponibile qui da noi, in pronta consegna, la rivadisco è in pronta consegna, a chilometro zero, immatricolata nel 2023. L'unico introvabile Citroen Berlingo, l'abbiamo qui da noi, disponibile a chilometro zero, nella motorizzazione diesel, non più disponibile in Italia, ma noi ce l'abbiamo. Ce ne abbiamo ancora un paio disponibili per i nostri clienti, sono tutte nell'allestimento Shine, e tutte nella colorazione grigio Platinum, come vediamo. Sono auto a chilometro zero, immatricolato a fine del 2022, anche per questa vettura, sempre la nostra formula guida senza pensieri, anticipo 5000 euro, 36 canoni, da 390 euro al mese. Naturalmente, non mancano, tra il percorso di vetture aziendali, che trovate qui all'interno da noi in Spoticar, delle fantastiche occasioni su vetture ibride. Parliamo di 508, ad esempio, abbiamo due o tre vetture ancora disponibili in pronta consegna, nell'allestimento all'URPAC, nel colore bianco-nero e grigio a Artense. Sono delle vetture aziendali del 2021, con pochissimi chilometri, che potete visionare e trovare sul nostro sito internet, www.gruppoghienzani.it. Tra l'altro, ricordo anche, e mi è venuto in mente in questo momento, che stanno arrivando delle bellissime FIA 500 1000 Hybrid, a chilometro zero, con un prezzo esclusivo, che a breve troverete sul nostro sito. Passiamo a Citroen C3, qui abbiamo un percorso di vetture del 2021-2022, sia benzina che diesel, benzina nel motorizzazione 1200, 83 cavalli, oppure le 1500 diesel, 100 cavalli, Euro 6 di tempo, chiaramente. Parliamo di vetture garantite, parliamo di vetture certificate, parliamo di vetture che hanno un chilometraggio, dai 20 ai 30 mila chilometri. Tutte, ripeto, in allestimento Shine, l'allestimento più esclusivo, in questo caso, anticipo 1000 euro, 36 canoni da 237 euro al mese, solamente 237 euro al mese. Continuiamo con questa bellissima Opel Corsa GS Line, 1.2 benzina a 100 cavalli, è un'auto del 2021, 35 mila chilometri, completa di ogni accessorio, dal farolè, dal cerchio diamantato nero, telecamera, sensori, clima automatico, bluetooth, veramente bellissima. Anticipo 500 euro, 36 canoni da 235 euro al mese. Ripetiamo? Anticipo 500 euro, solamente 500 euro, e 36 canoni da 235 euro al mese. Vettura in pronta consegna, disponibile qua da noi, in Spoticar Bergamo. Passiamo in casa Renault e incominciamo con questa bellissima Renault Clio, una delle tante disponibilità di Renault Clio che abbiamo attualmente in salone, sono delle auto del 2022, hanno una percorrenza massima di 10 mila chilometri, sono vetture aziendali, nell'allestimento intensa, che è l'allestimento, quello un pochino più completo, come abbiamo detto, lo ribadiamo, a noi piacciono le auto belle, ricche di accessori, bene equipaggiate. Sono tutte auto in pronta consegna, anche loro sempre con la nostra formula esclusiva, guida senza pensieri, in questo caso un anticipo di 1000 euro, o la vostra vettura da permutare o rottamare, e 36 canoni da 268 euro, all inclusive. Passiamo a Renault Captur, un'altra gamma di prodotto che non manca mai da noi qua in salone, e abbiamo scelto però questa volta di presentarle nell'allestimento intense con la motorizzazione ibrida benzina elettrica, un elettrico che sia autorigenera, un elettrico che può essere ricaricato con direttamente con la presa di casa. Parliamo di una vettura a motorizzazione 1.6 benzina, sono delle auto del dicembre del 2020, chilometraggio intorno ai 20 mila chilometri, che proponiamo ad un prezzo di 25.900 euro, oppure acquistabili con la nostra solita formula guida senza pensieri, che ci permette con un anticipo solamente di 3.500 euro, di guidare questa magnifica auto ibrida con 36 canoni da 297 euro. Alla fine, al termine di questi 297 euro, ribadisco che c'è la possibilità di riscattare il mezzo, di restituirlo qui da noi al Gruppo Ghinzani, oppure di rifinanziarlo. Avremo tantissime altre auto, Lara, da presentare ai nostri clienti, ma chiaramente il tempo a nostra disposizione sta terminando. Vi invito a visitare il nostro sito www.gruppoghinzani.it e lì potete revisionare tutto ciò che abbiamo visto velocemente insieme e le tante altre opportunità, esclusive opportunità, che trovate qui da noi in Gruppo Ghinzani. Un arrivederci da Andrea, ciao alla prossima, saluti, a presto.